Faccio una telefonata subacquea. Non avevo mai visto il campo mezzosangue d'inverno prima di allora e la neve mi sorprese. Il fatto è che il campo è dotato di questa specie di sistema supersonico di controllo climatico. Niente varca i suoi confini, a meno che il direttore e il signor D non voglia. Mi aspettavo di trovarlo caldo e soleggiato. Invece la neve aveva avuto il permesso di cadere. Il gelo ricopriva la pista delle bighe e i campi di fragole. Le case erano decorate da piccole luci scintillanti, come quelle di Natale, solo che erano palle di fuoco vero. Altre luci brillavano nel bosco e, cosa ancora più strana, un fuoco tremolava sulla finestra della soffitta della casa grande, dove dimorava l'oracolo, imprigionato in un vecchio corpo mummificato. Mi chiesi se lo spirito di Delphi stesse arrostendo marshmallows o roba del genere. Cavolo! esclamò Nico scendendo dal bus. Quella è una parete per l'arrampicata? Sì, risposi. Perché ci scende giù la lava? Una piccola sfida in più. Vieni, ti presenterò a Chirone. Zoe, lo conosco? rispose lei, freddamente. Digli che saremo nella casa Otto. Cacciatrici, seguitemi. Vi accompagno io, si offrì Grover. Conosciamo la strada. Oh, ma non c'è problema, davvero. È facile perdersi da queste parti. Inciampò su una canoa e si rialzò, senza smettere di parlare. Come diceva il mio vecchio papà caprone, venite. Zoe alzò gli occhi al cielo, ma capì che era impossibile liberarsi di lui. Le cacciatrici si misero lo zaino in spalla e partirono in direzione delle case. Prima di allontanarsi, Bianca di Angelo si chinò a bisbigliare qualcosa all'orecchio del fratello. Lo guardò, aspettando una risposta, ma Nico si incubì e distolse lo sguardo. Statemi bene, dolcezze! gridò Apollo alle cacciatrici. Poi mi fece l'occhiolino. Attento alle profezie, Percy. Ci vediamo presto. Che intende dire? Invece di rispondere, saltò di nuovo a bordo del bus. Ci vediamo, Talia! gridò. E... fai la brava! Le rivolse un sorriso malizioso, come se sapesse qualcosa che lei non sapeva. Poi chiuse le portiere e mise in moto. Mi scansai, mentre il carro del sole decollava in un'esplosione di calore. Quando mi voltai a guardare di nuovo, il lago fumava. Una maserati rossa si librava sopra il bosco, sempre più luminosa e sempre più in alto, finché non scomparve in un raggio di luce. Nico era ancora imbronciato. Mi chiesi cosa gli avesse detto la sorella. Chi è Chirone? chiese. La sua statuina mi manca. Il nostro direttore delle attività, risposi. Lui è... beh, lo vedrai. Se a quelle cacciatrici del cavolo non sta simpatico, brontolò Nico, questo già mi basta. Andiamo. La seconda cosa che mi sorprese del campo era quanto fosse vuoto. Cioè, sapevo che la maggior parte dei mezzosangue si addestrava solo durante l'estate. Restavano soltanto i ragazzi che si fermavano tutto l'anno, quelli che non avevano una casa a cui tornare o che avrebbero subito troppi attacchi dai mostri nel mondo esterno. Ma neanche loro sembravano molti. Intravì di Charles Beckendorf della casa di Efesto, che alimentava la fornace fuori dall'armeria del campo. I fratelli Stoll, Travis e Connor, della casa di Hermes, stavano forzando la serratura del magazzino del campo. Un gruppetto di ragazzi della casa di Ares faceva palle di neve con le ninfe ai margini del bosco. E questo era tutto, più o meno. Anche la mia vecchia rivale della casa di Ares, Clarice, non sembrava in circolazione. La casa grande era decorata di nastri rossi e sfere di fuoco giallo che scaldavano il portico senza incendiare nulla. Dentro le fiamme crepitavano nel caminetto. L'aria profumava di cioccolata calda. Nel salotto il signor D e Chirone giocavano a carte in silenzio. La barba a castana di Chirone d'inverno era più ispida. I capelli radi gli si erano allungati un po'. Quell'anno non doveva recitare la parte dell'insegnante, perciò immagino che potesse permettersi un aspetto più informale. Indossava un maglione sfilacciato con sopra il disegno di uno zoccolo e aveva una coperta in grembo che copriva quasi del tutto la sedia a rotelle. Sorrise non appena ci vide. Persi Italia! Ah e questo deve essere... Nico di Angelo lo presentai. Lui e sua sorella sono mezzo sangue. Chirone liberò un sospiro di sollievo. Ce l'avete fatta allora? Beh... Il suo sorriso si spense. Che è successo? E dov'è Annabeth? Oh misericordia! Esclamò il signor D, annoiato. Non ne avremo persa un'altra? Cercai di non badare a lui, ma era difficile ignorarlo con quella sgargiante tuta arancione leopardata e le scarpe da ginnastica viola, come se il signor D avesse mai fatto un solo giorno di ginnastica in tutta la sua vita immortale. Aveva una corona dall'oro dorata sui riccioli neri, di sbieco, il che probabilmente significava che aveva vinto l'ultima partita. In che senso? Chiese Talia. Chi altri abbiamo perso? Grover trottererlo dentro proprio in quell'istante, con un sorriso scemo stampato sulla faccia. Aveva un occhio nero e dei segni rossi sulla guancia che somigliavano all'impronta di uno schiaffo. Le cacciatrici si sono tutte sistemate! Chirone si accigliò. Le cacciatrici, eh? Vedo che abbiamo molto di cui parlare. Lanciò un'occhiata a Nico. Grover, forse dovresti portare il nostro giovane amico in soggiorno e mostrargli il nostro filmato d'orientamento. Ma... Oh, giusto? Sì, signore. Filmato d'orientamento? Chiese Nico. Hai il bollino verde o giallo? Perché bianca è un po' severa su... giallo dai tredici anni in su. Forte! Nico lo seguì nell'altra stanza tutto contento. Ora, fece Chirone a me e Talia, forse voi due dovreste sedervi e raccontarci tutta la storia. Quando finimmo, Chirone si rivolse al signor D. Dovremmo far partire subito una squadra di ricerca per ritrovare Annabeth. Vado io, rispondemmo io e Talia all'unisono. Il signor D tirò su col naso. Neanche per sogno. Noi cominciammo subito a protestare, ma il direttore ci fermò sollevando una mano. Aveva quel fuoco violento e purpureo negli occhi che in genere significava una cosa sola. Se non tenevamo la bocca chiusa, ci sarebbero state delle brutte e divine conseguenze. Stando a quanto mi avete riferito, disse, questa bravata si è chiusa con un pareggio. Purtroppo, ahimè, abbiamo perduto Annabel. Annabeth, sbottai. Frequentava il campo da quando aveva sette anni e il signor D fingeva ancora di non ricordarsi il suo nome. Sì, sì, replicò lui. E voi ci avete procurato un ragazzino irritante per rimpiazzarla. Perciò non vedo il motivo di rischiare altri mezzosangue in una ridicola operazione di salvataggio. È molto probabile che questa annetta sia morta. Avrei voluto strangolarlo. Non era giusto che Zeus lo avesse mandato a fare il direttore del campo solo perché si disintossicasse per un centinaio di anni. Doveva essere una punizione per il pessimo comportamento del signor D sull'Olimpo, ma alla fine si rivelava una punizione per tutti noi. Annabeth potrebbe essere ancora viva, intervenne Chirone, ma capì che si stava sforzando di mostrarsi positivo. Praticamente l'aveva cresciuta lui per tutti quegli anni in cui non era mai tornata a casa prima che lei decidesse di dare al padre e alla matrigna una seconda possibilità. È molto intelligente. Se... se i nostri nemici l'hanno presa, cercherà di guadagnare tempo. Potrebbe perfino fingere di cooperare. Giusto, concordò Talia. Luke la vorrebbe viva. Nel qual caso temo che dovrà essere abbastanza sveglia da fuggire da sola, concluse il signor D. A quel punto mi alzai dal tavolo. Persi, il tono di Chirone era allarmato. In un angolino del mio cervello sapevo che non era il caso di attaccare briga con il signor D. Anche se eri un ragazzino impulsivo con un disturbo da deficit dell'attenzione, lui non era tipo da chiudere un occhio. Ma ero così infuriato che non mi importava. Lei è felice di perdere un altro ragazzo del campo, sbottai. Sarebbe contentissimo se sparissimo tutti. Il signor D soffocò in uno sbadiglio. Hai qualcosa da ridire? Sì, ringhiai. Solo perché è stato mandato qui in punizione non significa che debba comportarsi come un bamboccio. Questa è anche la sua civiltà. Forse potrebbe fare lo sforzo di aiutarci. Per un secondo, l'unico rumore che si sentì nella stanza fu il crepitio del fuoco nel caminetto. La luce si riflettè negli occhi del signor D, dandogli un'espressione sinistra. Aprì la bocca per dire qualcosa, probabilmente una maledizione che mi avrebbe ridotto in briciole, quando Nico irruppe nella stanza, seguito da Grover. Che forza! Strillò, indicando Chirone con tutte e due le mani. Lei è... lei è un centauro! Chirone riuscì a rispondere con un sorriso nervoso. Sì, signor D'Angelo, se non ti dispiace. Anche se preferisco rimanere in forma umana su questa sedia per... per i primi incontri. E... wow! Guardò il signor D. Lei è quello del vino? Non ci credo! Il signor D distolse gli occhi da me e lanciò a Nico uno sguardo sprezzante. Quello del vino? Dioniso, giusto? Oh cavolo, ho la sua statuina. La mia statuina. Nel mio gioco, mitomagia. E ho pure la sua carta olografica. E anche se vale solo 500 punti e tutti pensano che sia uno scarto, secondo me ha dei poteri fantastici. Ah... Il signor D sembrò molto perplesso. Il che probabilmente mi salvò la vita. Beh... è gratificante. Percy si affrettò a suggerire Chirone. Tu e Talia fate il giro delle case. Informate gli altri ragazzi che domani sera giocheremo a caccia alla bandiera. Caccia alla bandiera? Chiesi. Ma non abbiamo abbastanza... è una tradizione, replicò Chirone. Un'amichevole, ogni volta che le cacciatrici vengono a farci visita. Già... commentò Talia. Scommetto che sarà davvero amichevole. Chirone indicò con un breve cenno della testa il signor D, che stava ancora ascoltando Nico con la fronte aggrottata, mentre il ragazzino gli spiegava quanti punti aveva ciascun dio nel suo gioco. Sbrigatevi, ci esortò. Oh, giusto, fece Talia. Andiamo, Percy. Mi trascinò fuori dalla casa grande, prima che Dioniso potesse ricordarsi che voleva uccidermi. Ti sei già messo contro Ares, mi rammentò Talia mentre ci avviavamo verso le case. Vuoi un altro nemico immortale? Aveva ragione. Durante la mia prima estate al campo mi ero scontrato in duello con Ares e adesso tutti i suoi figli volevano ammazzarmi. Non era il caso che facessi arrabbiare anche Dioniso. Scusa, dissi, non sono riuscito a trattenermi. È così ingiusto. Talia si fermò vicino all'armeria e scrutò la cima della collina Mezzosangue, in fondo alla valle. Il suo pino era là, con il vello d'oro che scintillava sul ramo più basso. La magia dell'albero proteggeva ancora i confini del campo, ma non attingeva più il suo potere dallo spirito d'Italia. Persi, tutto è ingiusto, mormorò. Qualche volta vorrei... Non finì la frase, però il suo tono era così triste che mi sentì dispiaciuto per lei. Con quei capelli neri spettinati e i vestiti da punk, avvolta in quel vecchio cappotto di lana, sembrava una specie di enorme corvo, un pugno in un occhio nel candore del paesaggio. Ci riprenderemo Annabeth, promisi. Solo che non so ancora come. Prima ho scoperto che abbiamo perso Luke, replicò lei. Adesso Annabeth, non pensarci nemmeno. Hai ragione, raddrizzò la schiena. Troveremo un modo. In lontananza, sul campo da basket, alcune cacciatrici facevano due tiri a canestro. Una di loro stava litigando con un tipo della casa di Ares. Il ragazzo aveva avvicinato la mano alla spada, mentre la cacciatrice aveva tutta l'aria di voler sostituire il pallone con un arco. Vado a separarli, disse Talia. Tu fai il giro delle case. Di a tutti della partita di domani sera. Va bene, tu farai il capitano. No, no, obiettò lei. Tu sei al campo da più tempo di me. Fallo tu. Potremmo fare metà per uno o roba del genere. Sembrava imbarazzata almeno quanto me, ma annui. Mentre si allontanava verso il campo da basket, la richiamai. E Italia? Sì? Scusa per quello che è successo alla Westover. Avrei dovuto aspettarvi. Non ti preoccupare, Percy. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Rimase ferma là, spostando il peso da un piede all'altro, come se stesse cercando di decidere se aggiungere qualcosa. Sai quando mi hai chiesto di mia madre e ti ho risposto male? È solo che... sono tornata a cercarla dopo sette anni e ho scoperto che era morta a Los Angeles. Lei, ecco, beveva troppo e pare che un paio di anni fa, mentre guidava di notte da sola, Talia strizzò forte le palpebre. Mi dispiace. Già. Beh, non... non è che fossimo mai state molto vicine. Sono scappata di casa quando avevo dieci anni. I due anni migliori della mia vita li ho passati con Luke e Annabeth. Però... ecco perché hai avuto problemi con il bus del sole. Mi guardò con diffidenza. Che vuoi dire? Ti sei irrigidita subito. Probabilmente pensavi a tua madre. Per questo non volevi metterti al volante. Mi pentì subito di avere aperto bocca. L'espressione d'Italia era pericolosamente simile a quella di Zeus, la volta in cui lo avevo fatto arrabbiare, come se volesse fulminarmi con lo sguardo da un minuto all'altro, letteralmente, con una scarica da un milione di bolt. Già, mormorò. Sarà stato per questo. Ripartì alla volta del campo da basket, dove il tipo di Ares e la cacciatrice stavano cercando di ammazzarsi con una spada e un pallone. Le capanne erano la cozzaglia di abitazioni più assurda che si possa immaginare. I grandi edifici con le colonne bianche di Zeus ed Hera, la casa 1 e la casa 2, erano al centro, con le cinque capanne degli dei sulla sinistra e le cinque delle dei sulla destra, in modo da formare una U attorno al prato centrale, con il falò nel mezzo. Feci il giro, annunciando a tutti la partita di caccia alla bandiera. Svegliai uno dei ragazzi di Ares dal suo sonnellino pomeridiano e quello mi urlò di sparire. Quando gli chiesi di Clarisse rispose, fuori. Chirone le ha affidato un'impresa. Top secret. Sta bene? Non la sento da un mese. È dispersa. Come succederà alle tue chiappe se non ti levi subito di torno? Decisi di lasciarlo dormire. Alla fine arrivai alla casa 3, la capanna di Posidone. Era un basso edificio grigio ricavato da una roccia marina, su cui erano incastonati conchiglie e coralli fossili. L'interno era vuoto come al solito, a parte il mio letto. Un corno di minotauro era appeso al muro, accanto al mio cuscino. Tirai fuori il berretto di Annabeth dallo zaino e lo posai sul comodino. Avevo intenzione di ridarglielo non appena l'avessi trovata. E l'avrei trovata, ne ero certo. Mi tolsi l'orologio e attivai lo scudo. Si spalancò, cigolando troppo. Gli aculei del dottor Torna avevano intaccato il bronzo in una decina di punti. Uno squarcio gli impediva di aprirsi fino in fondo, così somigliava a una pizza con due fette mancanti. Le belle scene che mio fratello aveva scolpito nel metallo erano tutte ammaccate. In quella in cui Annabeth e io combattevamo contro l'Hydra, sembrava che una meteora mi avesse aperto un cratere in testa. Appesi lo scudo al suo gancio, accanto al corno del minotauro, ma era uno spettacolo penoso. Forse, Beckendorf di Efesto poteva aggiustarlo. Era il miglior fabbro del campo. Gli lo avrei chiesto a cena. Stavo fissando lo scudo quando mi accorsi di uno strano rumore, un gorgoglio, e mi resi conto che c'era qualcosa di diverso. In fondo alla stanza vidi una grande vasca di roccia marina grigia, con una fonte a forma di testa di pesce scolpita nella pietra. Dalla bocca del pesce fuoriusciva un getto d'acqua salata che si tuffava nella vasca. Doveva essere acqua bollente perché emanava vapore nella fredda aria invernale, come in una sauna. Riscaldava la stanza con un'atmosfera quasi estiva, spandendo nell'aria il profumo del mare. Mi avvicinai. Non c'erano biglietti, ma sapevo che poteva essere solo un regalo di Poseidone. Guardai nell'acqua e dissi, grazie padre. La superficie si increspò. Sul fondo della vasca scintillarono delle monete, circa una decina di dracme d'oro. A quel punto capì a cosa serviva la fontana. Era lì per ricordarmi di tenermi in contatto con la mia famiglia. Apri la finestra più vicina e la fredda luce invernale creò un arcobaleno nel vapore. Poi pescai una moneta dall'acqua calda. Oh Iride, dea dell'arcobaleno, invocai. Accetta la mia offerta. Lanciai la moneta nel vapore e la dracma scomparve. Poi mi resi conto di non sapere chi contattare per primo. Mia madre? Un bravo figlio lo avrebbe fatto, ma pensai che probabilmente non era ancora preoccupata per me. Era abituata a vedermi scomparire per settimane di fila. Mio padre? Era passato troppo tempo, quasi due anni, da quando avevo avuto con lui una conversazione vera e propria. E poi? Si poteva usare l'iPhone, ovvero l'iridePhone, con gli dèi? Non ci avevo mai provato. L'avrebbero presa male? Come la telefonata di un call center o roba del genere? Esitai. Poi presi una decisione. Mostrami Tyson, chiesi. Alle vapore scintillò e comparve l'immagine del mio fratellastro. Era circondato dal fuoco, il che sarebbe stato un problema se lui non fosse stato un ciclope. Era piegato su un incudine e martellava la lama incandescente di una spada. Alle sue spalle c'era la cornice di marmo di una finestra affacciata su un'acqua blu scuro, il fondo dell'oceano. Tyson! gridai. All'inizio non mi sentì per via dei colpi di martello e del ruggito delle fiamme. Tyson! Si voltò e il suo unico enorme occhio si spalancò. Sulla faccia gli si aprì un largo sorriso storto e ingiallito. Percy! Mollò la spada e mi corse incontro cercando di abbracciarmi. L'immagine si confuse e io mi ritrassi distinto. Tyson è un messaggio iride e non sono davvero lì. Oh! Rientrò nella visuale, imbarazzato. Oh, certo lo sapevo. Come stai? Chiesi. Come va il lavoro? Il suo occhio si illuminò. Tyson ama il lavoro! Guarda! raccolse la lama incandescente a mani nude. L'ho fatta io! Fantastica! Ci ho scritto il mio nome sopra, proprio qui. Grandioso! Senti, parli molto con papà? Il sorriso di Tyson si spense. Non molto. Papà ha da fare. È preoccupato per la guerra. Che vuoi dire? Tyson sospirò. Sporse la spada fuori dalla finestra, producendo una nuvola di bolle gorgoglianti. Quando la riportò nella stanza, il metallo era freddo. Vecchi spiriti marini rompiscatole. Aigaios. Oceano. Questi qui? Avevo capito, più o meno. Si riferivano agli immortali che avevano governato gli oceani all'epoca dei titani. Prima che gli dei dell'Olimpo prendessero il potere. Il fatto che adesso fossero tornati, proprio quando il re dei titani Crono e i suoi alleati si stavano rafforzando, non prometteva niente di buono. Posso fare qualcosa? Chiesi. Tyson scosse mestamente la testa. Stiamo armando le sirene. Servono un migliaio di spade in più entro domani. Guardò quella che aveva appena forgiato e sospirò. I vecchi spiriti proteggono la nave cattiva. Vuoi dire la principessa Andromeda? La nave di Luke? Sì. La nascondono. La proteggono dalle tempeste di papà. Se no lui l'avrebbe già sbriciolata. Sbriciolarla non sarebbe male. Tyson si rianimò all'improvviso, come se gli fosse appena avvenuto in mente un altro pensiero. Annabeth è lì? Oh, beh... Mi sentivo il cuore pesante come una palla da bowling. Tyson pensava che Annabeth fosse la cosa più fantastica che fosse mai stata creata dopo il burro d'arachidi e lui adorava il burro di arachidi. Non ebbe il coraggio di dirgli che era dispersa. Sarebbe scoppiato a piangere così forte che probabilmente avrebbe spento il fuoco. Beh, no, non è qui adesso. Saluta là per Tyson, sorrise raggiante. Di ad Annabeth che Tyson dice ciao. Ok. Inghiottì il gruppo che mi era salito in gola. Lo farò. E Percy, non ti preoccupare, per la nave cattiva. Sta andando via. Come via? Nel canale di Panama. Molto lontano. Agrottai la fronte. Perché Luke avrebbe portato la sua nave da crociera infestata di demoni fin laggiù? L'ultima volta che l'avevo visto, viaggiava lungo la costa orientale e passava il tempo a reclutare mezzo sangue e addestrare il suo esercito di mostri. Bene, risposi, per niente rassicurato. È una buona cosa, immagino. Giù nelle fucine, una voce profonda mughiò qualcosa che non riuscì a distinguere. Tyson trasalì. Tyson deve tornare al lavoro. Il capo si arrabbia. Buona fortuna, fratello. Ok, dia a papà. Ma prima che potessi finire, l'immagine scintillò e scomparve. Ero di nuovo solo nella mia capanna. Anzi, più solo di prima. Quella sera a cena ero parecchio triste. Cioè, il cibo era ottimo come al solito. Con il barbecue, la pizza e i calici di bibite che non si svuotano mai, si va sul sicuro. Le torce e i bracieri tenevano il padiglione al caldo, nonostante fosse all'aperto, ma tutti dovevano sedersi con i propri compagni di casa, il che significava che io me ne stavo da solo al tavolo di Posidone. Anche Talia era da sola al tavolo di Zeus, ma non potevamo sederci insieme. Era la regola del campo. Almeno le case di Efesto, Ares ed Hermes avevano un po' di ragazzi ciascuna. Nico sedeva con i fratelli Stoll perché i nuovi arrivati venivano sempre piazzati nella casa di Hermes se il loro genitore divino era ignoto. I fratelli Stoll stavano cercando di convincerlo che il poker fosse un gioco migliore di mitomagia. Sperai che Nico non avesse soldi da perdere. L'unica tavolata che sembrava davvero divertirsi era quella di Artemide. Le cacciatrici bevevano, mangiavano e ridevano come un'unica grande famiglia. Zoe sedeva a capotavola come se fosse la mamma. Non rideva quanto le altre, ma si lasciava sfuggire qualche sorriso di tanto in tanto. Il cerchietto d'argento dal luogo tenente scintillava fra le trecce scure dei suoi capelli. Era molto più carina quando sorrideva, pensai. Bianca di Angelo sembrava spassarsela un mondo. Per imparare, giocava a braccio di ferro con la ragazzona che aveva attaccato briga con il tipo di Ares nel campo da basket. Perdeva sempre, ma non sembrava importarle. Quando finimmo di mangiare, Chirone pronunciò il tradizionale brindisi in onore degli dei e diede il benvenuto formale alle cacciatrici di Artemide. L'applauso che seguì fu piuttosto spento. Quindi annunciò la partita natalizia di caccia alla bandiera per la sera seguente e l'accoglienza fu decisamente migliore. Poi tornammo tutti nelle rispettive case. Il coprifuoco invernale cominciava molto presto. Ero esausto e mi addormentai senza problemi. Questo il lato positivo. Il negativo ebbi un incubo e fu una vera batosta perfino per i miei standard. Annabeth era sul fianco buio di una collina, avvolta nella nebbia. Sembrava quasi di stare negli inferi perché mi assali subito una sensazione di claustrofobia e non riuscivo a vedere il cielo. C'erano solo le tenebre, chiuse e pesanti, come dentro una grotta. Annabeth risaliva faticosamente la collina. Sparsi nei dintorni c'erano dei vecchi monconi anneriti di colonne greche, come se qualcosa avesse ridotto in macerie un enorme edificio, facendolo saltare in aria. «Torn!» gridò Annabeth. «Dove sei? Perché mi hai portata qui?» Si arrampicò sopra le rovine di un muro e raggiunse la cresta della collina. E lì rimase senza fiato. C'era Luke e soffriva. Era accasciato sul terreno roccioso, provava ad alzarsi. Intorno a lui l'oscurità sembrava più fitta e la nebbia roteava famelica. Aveva i vestiti a brandelli e il volto graffiato e zuppo di sudore. «Annabeth!» gridò. «Aiutami! Ti prego!» Lei accorse subito. Io cercai di gridare «è un traditore! Non fidarti di lui!» Ma nel sogno la mia voce non funzionava. Annabeth aveva le lacrime agli occhi. Tese la mano come per toccare il volto di Luke, ma all'ultimo secondo esitò. «Che è successo?» chiese. «Mi hanno lasciato qui!» gemette Luke. «Ti prego! Mi sta uccidendo!» Non riuscivo a capire cosa avesse. Sembrava lottare contro una specie di maledizione invisibile, come se la nebbia lo stesse stritolando a morte. «Perché dovrei fidarmi di te?» domandò Annabeth, la voce carica di risentimento. «Non dovresti, infatti», rispose Luke. «Sono stato orribile con te. Ma se non mi aiuti, morirò». «Lascialo morire!» volevo gridare. Luke aveva cercato di ucciderci a sangue freddo troppe volte. Non meritava niente da Annabeth. Poi l'oscurità al di sopra di Luke iniziò a sgretolarsi, come il tetto di una caverna scosso da un terremoto. Grossi monconi di roccia nera cominciarono a piombare giù. Comparve una crepa e l'intero soffitto cedette. Annabeth si slanciò in avanti appena in tempo e riuscì in qualche modo a sostenerlo. Erano tonnellate di roccia. Stava impedendo che crollasse addosso a lei e Luke solo con le proprie forze. Era impossibile. Non avrebbe dovuto esserne capace. Luke si liberò dal peso rotolando di lato, con il fiato grosso. «Grazie», riuscì a dire. «Aiutami a sorreggerlo», gemette Annabeth. Luke trattenne il fiato. Aveva la faccia coperta di sporco e di sudore. Si alzò in piedi, barcollando. «Sapevo di poter contare su di te». Cominciò ad allontanarsi, mentre l'oscurità tremante minacciava di schiacciare Annabeth. «Aiutami», lo implorò lei. «Oh, non ti preoccupare», rispose Luke. «Il tuo aiuto è vicino. Fa tutto parte del piano. Nel frattempo cerca di non morire». Il soffitto di tenebre cominciò a sgretolarsi nuovamente, schiacciando Annabeth contro il terreno. Mi svegliai di soprassalto, stringendo forte le lenzuola. Non c'erano rumori nella stanza, a parte il gorgoglio della fontana di acqua salata. L'orologio sul comodino segnava pochi minuti dopo la mezzanotte. Era solo un sogno, ma di due cose ero sicuro. Annabeth era in grave pericolo. E la colpa era di Luke.